Auguri, amore mio, non posso credere che siano già 15 anni. Scrive così, sotto all'ormai consueto post del 18 aprile, Katie Holmes. Il tempo scorre velocemente e la sua Suri, la prima e unica figlia nata dall'amore con Tom Cruise, spegne già 15 candeline. Ogni anno, puntuale, l'ex stella di Dawson S. Crick pubblica una foto anche se Suri non compare mai per intero. L'attrice, che come ricorda Vanity Fair nel 2012, all'indomani del divorzio di Tom Cruise, ha lasciato Los Angeles per trovare una sua normalità nella più riservata New York, è sempre cauda nel postare online le immagini della sua bambina. Ma nel giorno del suo compleanno fa sempre un'eccezione anche se quel che si vede è un dettaglio del viso, una nuca ritratta da lontano, mani, occhi o un sorriso. Ma anche se ripresa di sguincio, Suri Cruise riesce a catalizzare l'attenzione dei fan della famosa madre, che per il suo quindicesimo compleanno ha postato su Instagram diversi ritratti della propria bambina. Suri appare piccola e poi grande, senza mai vedersi davvero. Ma tanto è bastato a scatenare una pioggia di cuori e di commenti sotto al post. Oggi è diverso ma in passato è stata più volte al centro del gossip. Suri, che Tom Cruise si dice non vedere da anni causa Scientology è stata nell'occhio del ciclone per diverso tempo quando era piccola. I genitori l'avrebbero viziata troppo, quando, bambina, se ne andava in giro per le strade di Los Angeles con i tacchetti, le bolsette e sulle labbra un filo di rossetto. Poi però dopo la separazione dalla star di Hollywood Katie Holmes ha deciso di cambiare. Continua a leggere dopo foto e post, difficilmente sua figlia è più comparsa in pubblico oltre che sul suo profilo Instagram. Ci si deve accontentare degli scatti rubati per strada di una quindicenne come tante, circondata da amiche ordinarie mentre mangia un gelato o gioca con un cane. Certo è che non passa inosservata la straordinaria somiglianza con la sua mamma con cui, sostengono i ben informati, ha un rapporto idilliaco. Non è facile trovare una coppia madre figlia unita da una tale sintonia, ha spiegato una fonte vicina alla Holmes. Pubblicato il 19 aprile 2021 alle ore 15, 18. Ultima modifica il 19 aprile 2021 alle ore 15, 18.